Un viaggio, il Giappone, dove sorge il sole, mollare le mie radici a Verona per un luogo lontano, per realizzare un sogno, questo è quello che credevo di volere. Mi chiamo Nadia, cultura, paesaggi, kimono, tessuti mi hanno portato a scoprire la passione della sartoria, a coltivare le mie passioni del disegno e della moda. Poi, un evento mi ha stravolto tutto, l'incontro più straordinario in atteso della mia vita, l'incontro per eccellenza, l'incontro con Dio, a Verona, nel luogo più intimo, casa mia. Da quella sera, qualcosa in me non era più come prima. La scelta di prendere il battesimo nel domo di Verona, arrivare al matrimonio, tutti germogli vivi e concreti che oggi crescono. Ho scelto di unire il mio lavoro nella moda al servizio verso gli ultimi, a chi non ha avuto le mie opportunità. Senza quell'incontro, nulla di quello che sono oggi esisterebbe.